Giannini, un primo commento a questa squadra di governo di Mario Draghi. Quali sono le scelte che ti convincono di più e quali quelle di meno? Ricordiamo, otto tecnici, quindici politici, un capolavoro di equilibrismo politico, secondo me, ma adesso tu mi dirai se sei d'accordo, otto donne e quindici uomini. Noi pensavamo, speravamo 50-50, ma non è successo, tanto per cambiare. Allora, dimmi chi ti convince di più, chi di meno e in generale il giudizio dai di questo governo. Condivido la tua analisi, non so se è storico, perché quello storico è stata un'altra cosa, ai tempi di Moro e di Berlinguer, però è sicuramente un grande compromesso. Perché Draghi ha fatto un governo che forse non è il governo che avrebbe sognato se avesse potuto agire a mani libere. Però il suo governo lo ha fatto, perché le posizioni chiave sono tutte nelle sue mani. I ministeri fondamentali ce li ha lui, a partire da quelli economici. Daniele Franco al Ministero dell'Economia è una sua estensione, nel direttorio di Banca d'Italia, uomo conosciuto in tutto il mondo dal punto di vista degli assetti economici e finanziari. Poi la stessa cosa si può dire per gli altri tecnici che vanno da Marta Cartabia, che è una novità assoluta e finalmente potrebbe riuscire a fare una buona riforma della giustizia, magari quella civile ma anche quella penale. E poi le due grandi novità, gli altri due tecnici, che sono quelli che avranno in mano il recovery plan nella sostanza. Transizione ecologica, transizione digitale. Cingolani da una parte e Colau dall'altra. Due novità che non ci aspettavamo e che effettivamente rispondono direttamente al Presidente del Consiglio. Per il resto... Quindi diciamo economia in generale più gestione del recovery plan in tutte le sue sfaccettature in mano a Draghi. Tutto nelle mani del Presidente. Per quello che riguarda l'altra emergenza che il Presidente della Repubblica aveva affidato a questo governo, cioè l'emergenza coronavirus, continuità. Speranza resta al suo posto. Questo non era scontato, però è implicitamente il riconoscimento del fatto che il precedente governo su questo fronte non aveva lavorato male. Per il resto è perfetto manuale Cencelli. Lo dico con rispetto, però se si vede la divisione tra i partiti è un bilancino perfetto e in questo senso concludo è un formidabile governo del Presidente. Del Presidente di oggi, ma anche di quello di domani. Perché questa è la maggioranza che lo eleggerà realisticamente Presidente della Repubblica. Prossimo Presidente della Repubblica.